Come sempre provare a leggere il futuro nel mondo delle criptovalute è qualcosa di impossibile ma che dobbiamo assolutamente fare per provare a guadagnare più denaro possibile investendo i nostri capitali. Ora, ci sono diverse chain molto, molto conosciute su cui sicuramente tu che stai vedendo questo video stai investendo, chain come Ethereum, Binance, altre chain magari meno utilizzate come Polygon o come ad esempio Cardano ma ce ne sono molte, molte altre che sono uscite nell'ultimo periodo ma che hanno un potenziale illimitato e dico illimitato per il bacino di utenti che hanno. Questo perché dopo aver fatto il video su TomCoin e il suo potenziale ho deciso di portare un'altra chain che sicuramente esploderà e dico sicuramente sempre basandomi sui suoi utenti. Lo stesso ragionamento che avevo fatto un anno e mezzo fa guardando la chain di TomCoin. Di conseguenza anche in questo caso stiamo parlando sempre del solito calcolo ovvero di guardare il potenziale tecnologico della chain, il capitale che c'è dietro questa chain ma soprattutto gli utenti. La community intorno a questo progetto e a questa chain ma soprattutto gli utenti reali quanti potrebbero essere ma soprattutto è già ben fondata? Beh, come sappiamo trovare una community già solida all'interno di una chain è del tutto impossibile se non in casi eccezionali e questo è stato il caso ad esempio come sempre di TomCoin che aveva già tutti gli utenti di Telegram interessati. Se pensiamo al bacino di utenza di TomCoin, 800 milioni di persone, riusciamo a capire che se anche soltanto il 5% delle persone all'interno di Telegram si interesserebbero in maniera entusiasmata a TomCoin e decissero di investirci renderebbero TomCoin ancora più importante di quello che è già ora e da ciò che accadrà in futuro. Un'altra chain che sicuramente però prenderà il volo e le crypto quindi al suo interno prenderanno il volo è una blockchain che stiamo iniziando a conoscere ed è uscita da pochissimo tempo. Che blockchain è? Ve lo dico subito, prima però, sigla! In questo video voglio dire, secondo me, la seconda chain potenzialmente più esplosiva all'interno del mercato di crypto su cui possiamo investire in questo momento. Come sempre, no consigli finanziari, come sempre sono solo pensieri personali, come sempre ragionate con la vostra testa. Prima cosa di iniziare a dirvi il nome di questa chain però, vi chiedo di iscrivervi gentilmente, di attivare la campanella e di cliccare like. Oltre a questo, anche di iscrivervi al canale Instagram qui sotto e di unirvi al canale Discord per avere molte, molte informazioni su tutto ciò che riguarda le criptovalute. E se dico molte, fidatevi, sono molte. Ora, continuiamo e andiamo a parlare della chain di cui vi voglio parlare oggi. E questa blockchain layer 2, perché è un layer 2, si chiama BASE. Forse l'avete già sentita, è stata creata da Coinbase. E quando è stata creata, Coinbase ha dichiarato il futuro è on-chain. E questo è qualcosa di fantastico, dato che a dirlo è un exchange centralizzato che tenta di spingere i suoi utenti all'interno di un wallet, di un exchange DeFi, quindi decentralizzato, on-chain. È qualcosa di eccezionale, anche perché le fili di transazione all'interno di BASE sono nulle e moltissime MMCoin, come sempre quando si crea una chain nuova, si stanno scatenando all'interno di questa chain e stanno facendo guadagnare veramente tantissimo a una moltitudine di investitori che hanno un grado di rischio molto molto alto. Questo perché, come sapete, le MMCoin hanno sempre un rischio altissimo. Ma perché mi piace così tanto questa chain? Come sempre dobbiamo guardare un paio di cose. Ad esempio, da chi è gestita, il capitale all'interno di questa tecnologia, le possibilità che ci sono di utenza di questa tecnologia e soprattutto il capitale investito. Chi c'è dietro BASE? Beh, come avete capito, c'è Coinbase. Di conseguenza, uno degli exchange più famosi e la base è molto molto solida. La tecnologia è solida anche questa, dato che BASE sta funzionando in maniera efficace da quando è nata. Voglio ricordare che BASE è nata pochi mesi prima del 2023 e i suoi utenti sono cresciuti e di molto. E arriviamo infatti al punto più importante, ovvero l'utenza. L'utenza in questo momento è di 500.000 persone. Può sembrare molto, in realtà non è molto. È cresciuta di molto, perché inizialmente erano molto meno. Ma il tempo da quando è nata questa chain è veramente pochissimo. Per cui il rialzo è stato eccezionale. Ma dobbiamo vedere il bacino d'utenza in generale, come abbiamo fatto con TomCoin. Quanti utenti ci sono ad utilizzare Coinbase? Ecco, sicuramente non tutti utilizzeranno anche BASE, poi, che è sicuramente un wallet collegato a Coinbase in modo decentralizzato e facilissimo da usare. Ma molti di questi, se non la metà, almeno un 20-30%, si sposteranno lentamente con il tempo all'interno di questo Wallet DeFi tramite varie promozioni che darà Coinbase, tramite inviti, tramite molte altre cose che spingeranno gli utenti che investono i loro capitali, piccoli o grandi, in un exchange centralizzato come quello, in questo exchange decentralizzato. Ecco quindi che gli utenti all'interno di Coinbase sono 108 milioni. Tanta, tanta, tanta roba. Non come TomCoin, che sono 800 milioni, ma una quantità così grande, già di base, è veramente qualcosa di speciale. E quindi ho pensato che investire in alcune criptovalute all'interno di questa chain, in questo momento, è sicuramente la cosa più giusta da fare per quanto riguarda me. Io, come ben sapete, il mio pack, il mio portafoglio, l'ho già completato e chiuso da tempo. In questo momento investo solo in progetti che sono stati creati recentemente e che mi interessano in maniera particolare. E sto guardando, come sapete, i progetti all'interno della blockchain TomCoin e all'interno della blockchain Base. Ecco quindi che ci sono progetti importanti anche in Base, ma prima di vederli, perché ve ne mostrerò alcuni, voglio darti altri dati di Base. Ad esempio, come abbia sorpassato come utenza alcune chain presenti nel mercato da più tempo, chain come Arbitrion e OP. Ok, queste non sono chain presenti nel mercato da molto, molto tempo, però sono comunque collegate ad ETH e sono comunque chain importanti come Rollup e quindi utilizzate per abbassare le fee. Non siamo ancora ai livelli di Polygon per Base, ma ha sorpassato queste due chain e questo è stato fatto in pochissimi mesi. Pensate in futuro che cosa può fare. Oltre a questo, con gli utenti, è cresciuta anche la Total Value Locked, che se inizialmente era di 400 milioni di dollari, in questo momento è 1,5 miliardi. E, come sappiamo, questo conta molto, che dà sicurezza al progetto e alla chain e a chi vuole investirci. Se andiamo su DeFi Lama, possiamo vedere altri dati molto importanti. Andiamoci assieme. Eccoci qua, siamo all'interno di DeFi Lama, andiamo sulla parte chain e possiamo vedere la Total Value Locked All Chain. Questo dato è molto importante perché ci fa vedere quanto la fiducia degli investitori sia in una determinata chain. e, seppur in piccolissima percentuale, 1.65, possiamo vedere che la Total Value Locked di BASE è comunque più grande di alcune chain che sono presenti nel mercato da molto tempo. Ovviamente non possiamo metterla in confronto ad Ethereum o a Solana, ma comunque, se guardiamo Avalanche, che è presente da molto tempo, o addirittura a Bitcoin stesso, anche se possiamo dire che la Total Value Locked di Bitcoin è particolare, dato che non ha DAP e qualsiasi altra cosa al suo interno che possa servire per gli smart contract. Per quanto riguarda BASE si ha un 1.65%, Blast leggermente superiore, 1.67%, per cui, secondo me, anche l'ecosistema Blast è da tenere sott'occhio, mi piace un po' di meno rispetto a BASE, però è un buon ecosistema e questo è il grafico a Spicchi, ve l'ho mostrato e avete capito in che percentuale la Total Value Locked di BASE è all'interno del mondo della DeFi. Ora, se guardiamo la classifica, possiamo vedere che nella classifica della Total Value Locked BASE è settima ed è tanta cosa per un progetto creato da poco poco tempo e all'interno, soprattutto, ha 276 protocolli. Se guardate Ethereum a 1.065, BNB 749, Solana ne ha 139, BASE 276, quasi il doppio. Poi c'è Arbitrium che sta crescendo moltissimo per quanto riguarda i protocolli, ma questo anche grazie al suo collegamento con Ethereum, sicuramente. E tutte le altre, come Avalanche che è nel mercato da molto tempo, 384, diciamo che i protocolli fanno vedere quanto, anche in questo caso, la fiducia all'interno di una determinata chain e soprattutto nella sua funzione sia fatta per i programmatori e diversi, soprattutto, investitori. E di fatti Solana non ne ha tantissimi di protocolli perché, il mio modesto parere, non ha molta fiducia dato che la sua rete si è bloccata tante tante volte e ha dei problemi. Ora entriamo in BASE. Andiamo a vedere un po' che cosa c'è al suo interno. Questo è il protocollo ranking e possiamo vedere che ci sono diverse categorie di criptovalute al suo interno. Le andremo a vedere in particolare quando vi dirò le varie cripto che mi interessano molto e a cui, secondo me, bisogna dare un'attenzione maggiore. Questi sono i 279 protocolli. Come vedete, ce ne sono molti. Non siamo qui ad analizzarli tutti, come detto. Vi volevo solo far dare un'occhiata in generale. La stablecoin market cap è di 2.838 billion. Le fee sono comunque importanti di 103.257 mila dollari. Se la compariamo con le altre chain, ovviamente mettiamo le chain più recenti come Optimist Arbitium, Blast e in questo caso aggiungiamo anche come detto la nostra BASE. Eccola qui. Possiamo vedere che BASE creata proprio recentemente, Blast è ancora più recente se vedete è comunque con una total value lock importante e superiore a OP. Non superiore come detto ad Arbitium l'abbiamo visto ma superiore a OP e pari praticamente con Blast. Se guardiamo le fee possiamo vedere come Blast e BASE siano sempre pari ma siano in ogni caso inferiori ad Arbitium ed anche per le revenue la stessa cosa. Stessa cosa anche per gli active address e per quanto riguarda le transazioni quindi direi che è tutto regolare per quanto riguarda i dati comparati. Qua abbiamo le percentuali ancora più specifiche 802.46 millions di total value lock Arbitium 2.776 billions Blast 1.566 billions e BASE 1.557 billions. Voglio ricordare che BASE è nata non da moltissimo tempo infatti se andiamo a vedere la sua nascita eccoci qua andiamo su total value lock eccoci qua è nata intorno a giugno del 2023 quindi stiamo parlando veramente di mesi non è ancora passato un anno ora che abbiamo visto questo possiamo vedere anche le crypto che seguo con attenzione all'interno di questa chain su cui ho deciso di investire sono tre le crypto valute principali che ho deciso di puntare e secondo me hanno tutte e tre un bel bel potenziale sapendo che in futuro ne verranno create altre all'interno di questa chain che dovrò rivalutare comunque sono queste allora la prima crypto è Aerodrome Finance sicuramente la più famosa è quella con la capitalizzazione maggiore all'interno dell'ecosistema base infatti ha 420.38 milioni di market cap il volume delle 24 ore è di 15.36 milioni e in questo momento il prezzo è di 0.92 centesimi di euro non dollaro scusate lo dovevo impostare ora lo imposto eccoci qua ovvero un dollaro quindi siamo arrivati come all time high a 2 dollari e 11 siamo a metà prezzo come si suol dire se dovessi entrarci ci entrerei a pack mi piace perché è un automatic market makers ora ve lo mostro ma soprattutto voglio far vedere che l'offerta circolante è di 454.67 milioni di aereo e l'offerta totale di 1.05 billion siamo a metà all'incirca quindi c'è ancora tempo per il rilascio di altri token per questo entrerei a pack ora per farvi capire cos'è aereodrome ho tradotto in italiano e vi mostro subito che cos'è ma come detto è un automatic market makers di prossima generazione progettato per fungere da hub centrale di liquidità di base combinando un potente motore di incentivi alla liquidità un modello di governance con un blocco del voto ed un'esperienza utile e intuitiva aereodrome è realità le funzionalità di velodrome v2 ecco è secondo me una delle cripto fondamentali dell'ecosistema la più importante per cui non si può non puntare su aereodrome finance direi che anche il livello di prezzo è abbastanza buono per cui ragazzi dateci un occhio questa è la prima che voglio mostrare la seconda criptovaluta che voglio mostrare in realtà sono due cripto perché parlo di meme coin dato che in questo momento base nata da poco è piena di meme coin molto pericolose sapete cosa è preso di meme coin ho fatto un video riguardo andate a vederlo secondo me molto interessante in cui ho parlato di una cripto di nome brett brett che fa parte della meme riguardante i fumetti di matt fury ad esempio pepe o wolf e insomma di tutta quella cricca lì possiamo dire è una meme coin su cui punterei prima nell'ecosistema per quanto riguarda base delle meme non si parla di tanto ma questo ci permette anche di poter avere un rialzo molto molto più importante in futuro se diventerà la prima meme coin per quanto riguarda base anche con una capitalizzazione maggiore dell'ecosistema stesso quindi il potenziale per me è per quello che è molto molto alto ma insieme a brett vi dico un'altra meme dato che questa ve l'ho già detta che è toshi il prezzo è simile a quello di brett ha avuto un bel ribasso e anche questa può crescere tantissimo per me le meme in generale all'interno di questi nuovi ecosistemi possono avere delle esplosioni assurde dato che gli ecosistemi sono nuovi non hanno ancora le capitalizzazioni importanti come altri ecosistemi e possono crescere tantissimo veramente tantissimo e come sappiamo se becchiamo la meme coin che poi diventerà la prima dell'ecosistema anche con una capitalizzazione alta la moltiplicazione del capitale può essere enorme continuiamo c'è poco da dire su queste criptovalute è una meme non ha funzionalità differenti rispetto a brett anzi non hanno nessuna funzionalità è la faccia del gatto di brian armstrong direi che ho detto tutto andiamo alla terza cripto secondo me molto interessante che è questa virtual protocol al prezzo di 0.11 centesimi di dollaro quasi 12 ecco che abbiamo una criptovaluta che riguarda l'AI e i gaming ed è per quello che l'ho scelta dato che i trend del futuro e del presente è l'AI ecco che fuso al gaming che è un trend perenne per quanto riguarda il criptovalute è collegato a qualsiasi cosa NFT e molto altro è qualcosa che secondo me deve essere preso per forza in considerazione ed è una cripto importante è un AI fusa con un gaming di protocollo di metaverso con interazioni virtuali virtuali ora riguardante questa cripto vi faccio vedere il sito così magari la capite ancora di più ecco la virtual protocol ha 54.7k mila follower e è fatta con agenti virtuali che cosa vuol dire agenti virtuali ne avete già sentito parlare sicuramente per quanto riguarda un altro token e questo token l'abbiamo descritto soprattutto in live io e viner ecco il token di cui avevamo parlato ed era agi delisium qual è la correlazione tra questi due progetti la correlazione è che entrambi usano i virtual agent e vogliono una AI decentralizzata ovvero un modello di decentralizzazione anche durante il gioco durante il gioco noi potremo utilizzare il nostro personaggio nel metaverso e questo cambierà e anche l'interazione con l'ambiente circostante cambierà grazie all'intelligenza artificiale che in base alle nostre scelte farà cambiare ad esempio colloqui con le persone che incontreremo e avremo questa intelligenza artificiale che ci supporterà come amico e anch'essa cambierà a seconda del nostro comportamento direi qualcosa di molto molto interessante questo è letteralmente il futuro del gaming e non solo ricordo ed un progetto molto molto figo e soprattutto da tenere sott'occhio l'offerta totale un billion l'offerta massima un billion l'offerta circolante autodichiarata è totalmente già fuori ovvero un billion e questa è una cosa buonissima e spero che in futuro magari si rischiano a fare anche dei burn ma comunque bisogna diciamo ancora esplorare interamente questa criptovaluta e sapere nello specifico come funziona per cui ragazzi se vi interessa ci farei un video molto molto volentieri solo su questa penso di aver detto tutte le criptovalute che mi interessano di più all'interno di base ce ne sono altre ma secondo me tutte tutte ripeto hanno un potenziale di crescita veramente enorme rispetto a quelle presenti in altre chain quindi vi ho dato le mie ragioni su perché base è una chain veramente importante e che ha la possibilità di esplodere in futuro vi ho mostrato alcuni dati defi vi ho mostrato le cripto che mi piacciono di più non vi resta altro che analizzare anche voi stessi vari dati e decidere se vale la pena investire in alcune cripto all'interno di questa chain oppure non farlo detto questo scrivete qui sotto nei commenti se confidate anche voi in un'esplosione di base o secondo voi ci sono altre chain che hanno la possibilità di esplodere in maniera maggiore nel prossimo bull market e quindi che hanno la possibilità di far esplodere criptovalute importanti all'interno di loro in modo enorme da cambiare la vita alle persone mi raccomando convidete il video se vi è piaciuto e oltre a questo iscrivetevi al canale Telegram qui sotto grazie per la visione se volete fare copy trading e di investire nel mercato spot delle criptovalute usate BingX io mi trovo molto bene per cui se avete voglia iscrivetevi anche voi retto il link qui sotto utilizzatelo e mi aiuterete col canale un saluto a tutti quanti e un ciao da Michele ciao ciao